L'autopsia non lascia alcun dubbio, era ancora viva quando è stata data alle fiamme, probabilmente però priva di conoscenza. Il corpo della ragazza nigeriana di 20 anni, semicarbonizzato, è stato trovato il 10 dicembre scorso nelle campagne nei pressi del CARA, al centro richiedente asilo politico di Borgo Mezzanone, alle porte di Foggia. L'autopsia sul corpo della giovane vittima ha riscontrato tracce di fumo nei polmoni, una circostanza che fa capire che la donna fosse ancora in vita quando sono state appiccate le fiamme. Secondo gli investigatori la ragazza potrebbe aver perso i sensi dopo essere stata stordita con un colpo alla testa oppure dopo un tentativo di strangolamento. Si chiamava Victory Uwang e aveva 23 anni, veniva dalla Nigeria e faceva la prostituta. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri la giovane viveva sola nell'accampamento di Fortuna e a quanto pare nei giorni precedenti alla sua morte non aveva avuto diverbi o discussioni con altri cittadini stranieri. Il cadavere della donna presentava ustioni su varie parti del corpo e il viso e la testa erano completamente carbonizzati. Tracce di bruciature erano anche lungo gli arti inferiori. A trovare il corpo della donna all'interno di un campo è stato un ospite della struttura di accoglienza mentre si stava recando al lavoro.